Trepidante attesa per la visita in Sicilia del Papa. L'arcivesco di Palermo, Monsignor Lorefici, ha sottolineato il valore della visita pastorale nell'anniversario dell'uccisione di Don Puglisi e del grido contro la mafia di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Nessun danno né ad agenti né a personale in servizio a seguito dell'incendio divampato ieri sera al gruppo di continuità allocato nel balcone esterno al piano inferiore dell'ospedale civile. E' ripiesa a preno regime stamani l'attività. Incontro tra amministrazione comunale e associazioni di categoria a scicli sul tavolo, la gestione delle strisce blu e il potenziamento della raccosta differenziata, entrambi al centro di polemiche da parte di cittadini e imprenditori. Al via ai lavori di riqualificazione del Parco archeologico di Camarina, stamattina la consegna dei lavori alla presenza dell'assessore regionale e beni culturali Sebastiano Tusa. Gli interventi consediranno una maggiore fruizione turistica. Buon pomeriggio e bentrovati al nostro consueto appuntamento con l'edizione di MTG. Lo avete sentito dai titoli, manca davvero poco alla visita in Sicilia del Papa e c'è trepidante attesa a Palermo. Il scivescovo appunto Lorefice nei giorni scorsi è stato ricevuto da Papa Francesco, il quale gli ha confidato di non vedere l'ora di venire qui in Sicilia. Intanto Monsignor Lorefice ha anche sottolineato il valore della visita del Pontefice, come sia carica di significato anche perché è in occasione dell'anniversario dell'uccisione di Don Puglisi. Il servizio. Il Papa viene a Palermo perché sta mettendo in risalto una chiesa che verse il suo sangue per la fede e la giustizia e per indicare la strada da seguire. Ad affermarlo l'arcivescovo Lorefice, che nei giorni scorsi è stato ricevuto da Papa Francesco, il quale gli ha confidato che non vede l'ora di venire a Palermo. L'arcivescovo in un video ha rimarcato l'attesa trepidante e gioiosa della città per la visita pastorale del Papa, che viene a visitare un territorio in un giorno significativo come l'anniversario del martirio di padre Puglisi. Papa Francesco arriva in Sicilia dopo aver fatto alcune tappe di un itinerario ideale, di un itinerario sulle orme di testimoni ben precisi. Da Mazzolari, passando poi anche per Don Milani, Don Zeno, poi Don Tonino Bello e infine qui a Palermo. Ricorre un altro venticinquesimo, il grido di Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento nei confronti della mafia. In fondo l'inerme Don Pino Puglisi, audace nell'annuncio del Vangelo, ma inerme, mite, nella sua costituzione caratteriale. In poco meno di tre anni è riuscito a mettere anche paura alla stessa mafia, in un momento in cui la mafia in Italia invece voleva dimostrare tutta la sua potenza. E cambiamo argomento perché per l'ex sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia, le accuse sia vecchie che nuove sono tutte infondate, così come poco convincenti. E gli appare tutto l'impianto dell'inchiesta exit poll al quale però il provvedimento di scioglimento dal comune attinge a piene mani. Secondo Giuseppe Nicosia, la nuova imputazione non cambia molto lo scenario processuale. L'accusa di voto di scambio elettorale politico-mafioso, a suo avviso, è totalmente infondata. Tant'è che ha annunciato querela per calunnia, ma rimane un contesto complessivo anche in riferimento all'imputazione per corruzione che l'ex sindaco disconosce completamente, cogliendovi però la base di lavoro per uno scioglimento del comune, le cui motivazioni a suo avviso hanno la valenza e l'incisività di una indagine storico-sociale. Al netto della indagine exit poll che viene citata circa 35 volte in 11 pagine e alla quale la relazione quasi integralmente si appoggia per interpretare gli atti e le attività di addirittura quasi 40 anni di amministrazione, mi riferisco per esempio a quando parla del mercato o dell'abusivismo edilizio, devo dire che non resta nulla. Se da addirittura, come io auspico e come non ho dubbi che avvenga, l'indagine ex poll che per me costituisce, l'ho detto sin dal primo momento e lo hanno dimostrato già i primi atti, un equivoco ed errore giudiziario di ampia portata, dovesse essere stracciato, strappato come già è avvenuto in Cassazione, anche nel merito dinanzi al Tribunale, mi chiedo cosa resterebbe di questa relazione e di questo scioglimento del Consiglio Comunale. Tra i punti neri nella relazione è anche il mancato abbattimento degli edifici abusivi. Chi era quel personaggio storico che diceva se mi dessero un cavallo, se mi avessero dato una ruspa, io non sarei riuscito a demolire mezza vittoria e mezza scoglitti, così come non mi pare che abbiamo demolito mezza caucana, non mi pare che abbiamo demolito mezza gela, tutte le realtà, mezza grigento, a grigento ancora ci stanno le case in mezzo ai templi. È una vergogna che grida vendetta a livello europeo, non mi pare che abbiamo provveduto a sciogliere alcunché. Di ripie presa a pieno ritmo questa mattina l'attività del reparto di medicina dell'ospedale civile interessato ieri sera da un incendio. Da stamani è tornata sotto controllo la situazione nel reparto di medicina dell'ospedale civile di Ragusa, i cui locali ieri sera alle 21.15 circa sono stati invasi dal fumo a causa dell'incendio che si è sviluppato al gruppo di continuità allocato nel balcone del piano inferiore. L'incidente non ha provocato nessun danno né ai degenti né al personale in servizio. I pazienti inoltre hanno dimostrato grande senso di responsabilità non facendosi prendere dal panico collaborando con le squadre intervenute. È un vero e proprio rischio, non c'è stato per i pazienti, perché il principio di incendio è stato immediatamente contenuto sia per l'intervento della squadra interna di emergenza, sia per l'intervento dei vigili del fuoco che hanno completato l'opera. Tutto è successo a causa di un cortocircuito al pacco batterie dell'UPS, cioè del gruppo di continuità. Ciò che ha causato piccole fiammelle, però una coltre di fumo che ha invaso le stanze sovrastanti del reparto di medicina. Non tutto, ma solamente un'ala. Da quell'ala abbiamo evacuato i pazienti per precauzione e in tutta sicurezza e in tutta tranquillità. Alcuni sono stati portati nelle stanze del pronto soccorso, alcuni sono rimasti invece in reparto, perché così hanno preferito anche i medici e gli infermieri per tenerli sotto controllo e quindi li abbiamo allocati temporaneamente nei corridoi. Le condizioni ottimali sono state ripristinate dopo una curata pulizia da parte della ditta preposta. L'incidente ripropone con forza l'apertura del nuovo ospedale, anche se, come affermato dal dirigente medico Cappello, l'episodio si sarebbe potuto verificare anche in una struttura nuova. È una cosa che può essere legata al temporale che c'è stato nei giorni scorsi, che probabilmente ha causato una infiltrazione e quindi ha mandato in cortocircuito qualche batteria. Gli ospedali sono datati e quindi c'è del vecchio in questo ospedale, ma la manutenzione non manca perché altrimenti non daremmo un buon servizio. Non c'è dubbio che accelerare le procedure per andare nel nuovo ospedale ci favorisce anche da questo punto di vista. Due uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catania. Lo scorso 11 settembre avevano mandato in frantumi una vetrina utilizzando una utilitaria come Ariete. Una volta rotta la vetrina, si erano introdotti in un bar del centro di Catania portando via il registratore di cassa. I due però sono stati intercettati e arrestati dopo un breve inseguimento tra le vie del centro storico dall'equipaggio di una volante della Polizia di Stato. I due uomini sono accusati di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. Sbloccate le risorse per circa 25 milioni in favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che fino a oggi non avevano ancora ottenuto il riconoscimento in busta paga degli adeguamenti contrattuali a partire dal mese di gennaio 2010. Una direttiva del dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'assessorato per la salute è stata inviata proprio stamattina ai direttori generali delle nove ASP siciliane e stabilisce per queste due categorie di medici dell'assistenza primaria l'immediato versamento degli arretrati in busta paga. E' un tavolo tecnico per affrontare alcune emergenze legate ai rapporti finanziari tra regione siciliana e lo Stato sarà presto istituito a Roma presso il Ministero dell'Economia. Ad assicurarlo il ministro Giovanni Tri al governatore Musumeci nel corso dell'incontro avuto ieri nella Capitale incontro nel corso del quale si è parlato del federalismo fiscale nell'isola in particolare della defiscalizzazione dei prodotti petrolifici e ancora Musumeci ha evidenziato l'esigenza che gli enti siciliani per il raggiungimento della piena autonomia finanziaria debbano contare sul gettito dei tributi locali e sulle quote di gettito di tributi regionali e statali. Il ministro ha anche assicurato che il tavolo tecnico esaminerà i temi evidenziati nel documento del governo regionale e condurrà il lavoro propedeutico a un confronto politico tra governo di regione e governo nazionale. E restiamo appunto sulla pagina politica e ci spostiamo a scicli perché l'amministrazione comunale ha incontrato le associazioni di categoria sul tavolo due problematiche che stanno a cuore a cittadini e anche a imprenditori rifiuti e strisce blu. Attorno a un tavolo si sono seduti amministratori e associazioni di categoria stamattina per affrontare due temi caldi a scicli e il potenziamento della raccolta differenziata e la gestione delle strisce blu. L'ordine del giorno che ha occupato il primo spazio dell'incontro è stata la raccolta differenziata. Obiettivo del sindaco Enzo Giannone è partire in maniera seria nei bar, nei ristoranti, nell'abitazione del centro urbano ed extraurbano. A tal proposito è stato consegnato all'associazione di categoria una tabella con il calendario definitivo della raccolta differenziata. Il primo cittadino ha chiesto uno sforzo in più alle scuole, agli sciclitani, agli imprenditori. Questi ultimi hanno presentato le loro istanze. Aumentare la videosorveglianza. È stata fatta una informazione efficace all'interno degli stabilimenti anche perché è importante far capire e informare i dipendenti come differenziare i rifiuti che poi sono coloro che stanno a contatto effettivamente con la polizia del locale. Alla base, quella è la base, prima di iniziare una stagione cerchiamo soprattutto di sensibilizzare i nostri dipendenti. Certe volte ci riusciamo, certe volte non ci riusciamo, dovevamo essere anche onesti, ma la prima cosa parte da noi, parte soprattutto di chi ha delle attività. La ditta passa, pulisce all'indomani e nuovamente è pieno quel punto Enzo. Quindi secondo me si deve rafforzare la videosorveglianza, i controlli soprattutto e malauguratamente chi sbaglia deve essere punito. Il Comune si è già attivato per informare sulla differenzazione dei rifiuti e per demotivare i trasgressori, molti dei quali sono già stati denunciati all'autorità giudiziaria per abbandono illecito dei rifiuti. Abbiamo già da settimana messo in atto tutta una serie di controlli territoriali piazzando telecamere e fotocamere. Ora gli atti sono al vaglio di chi deve effettivamente controllare, vedere quello che è successo, ma non solo quello, anche se stiamo vagliando otta sede iniziative di controllo perché ci siamo resi conto che ci sono frazioni nobbi e la differenziata che spariscono dalla gestione del ciclo ordinario dei rifiuti e anche su quello sta indagando l'autorità giudiziaria. Strisce blu, anche la gestione degli orari del parcheggio a pagamento è stato oggetto di critiche da parte di residenti e commercianti. L'amministrazione ha voluto confrontarsi con gli attori principali per soddisfare le esigenze della cittadinanza. È una convenzione che è in scadenza, sembra che siano ben propensi. Abbiamo alcune criticità che sono quelle della durata oraria delle strisce blu nel periodo estivo che ricordo è fino a mezzanotte. Questo prolungamento dell'orario è stato dovuto a una limitazione dell'estensione delle aree delle strisce blu. Su questo sicuramente vorremmo fare chiarezza e capire eventualmente come rimodulare la convenzione. Da lunedì partirà a Catania il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti affidato alla Dasti che ha vinto la gara ponte. Aiuterò Catania a tornare a essere pulita. A sostenerlo è l'amministratore unico della Dasti, Rossella Pezzino De Geronimo. Proprio la Dasti ha vinto la gara ponte della durata di 140 giorni e già da lunedì 17 partirà il nuovo servizio. Le modalità e gli orari di conferimento, come da capitolato della gara ponte, rimarranno invariati, mentre per le altre zone si partirà con l'integrazione dei cassonetti mancanti. Saranno poi aumentate le frequenze di spazzamento meccanico e manuale delle strade cittadine. L'obiettivo primario del servizio sarà l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, adesso ferma alla 7,2%. L'obiettivo è arrivare al 30% a dicembre. Ciò che si chiede, come sottolineato dal sindaco Salvo Pogliese, è la totale collaborazione dei cittadini. Chi non rispetterà le regole verrà multato. Per questo verranno incentivati i controlli anche per punire i pendolari che gettono i rifiuti a Catania. Pogliese annuncia anche che si sta lavorando all'assesura del bando settennale. Coerentemente con quello che l'ANAC ci ha suggerito, stiamo lavorando in sinergia con l'SR e con l'ANAC per arrivare nel più breve tempo possibile alla predisposizione del nuovo bando. E poi tante iniziative come Eurodasti con non buone spese per chi sarà un cittadino virtuoso e chi scaricherà l'e-app o farà dei jingle a favore della Dasti. È logico che io desidero investire sul mio territorio per due motivi. Prima perché la amo e perché voi lo sapete che amo questa città, tant'è che Wonder Time mostra veramente questo attaccamento profondo alla città. E poi siamo conosciuti da 40 anni proprio perché facciamo le cose bene, perché siamo un'impresa d'eccellenza. Quindi cercheremo di portare l'eccellenza anche a Catania. Troppi morti sulle strade Ible, i dati parlano chiaro, motivo per il quale il prefetto Maria Filippo Ifina Scutcoguzza ha convocato ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. I dettagli da Carmela Minardo. Sviluppare una maggiore qualificata sinergia interistituzionale per assicurare un più efficace controllo del territorio anche nelle ore serali e notturne e per contrastare le condotte di guida imprudenti che costituiscono la causa di incidenti stradali è quanto deciso al termine del vertice di ieri in prefettura Ragusa voluto dalla prefetta Filippina Cocuzza che ha riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dopo i numerosi incidenti, tra cui molti mortali, degli ultimi mesi sulle strade Ible. Dall'esame dei dati sul fenomeno della incidentalità nella provincia è emerso che a fronte di 12 vittime complessive nello scorso anno il dato parziale ad oggi è già pari a 17 nonostante alla fine dell'anno manchi ancora circa un quadrimestre. La prefetta ha evidenziato che le principali cause di incidenti stradali sono l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebrezza e la mancanza di attenzione al volante determinata spesso dall'uso improprio del cellulare. Inoltre maggiore attenzione dovranno avere gli enti proprietari delle strade affinché si attivino a mettere in sicurezza i tratti stradali che per le loro condizioni strutturali o di manutenzione o per carenza di segnaletica presentino maggiore rischio di incidenti avvalendosi anche della consulenza tecnica della polizia stradale. La Cocuzza metterà in campo dunque incisive azioni di prevenzione per contrastare gli incidenti stradali promuovendo un protocollo d'intesa tra tutti gli enti presenti e ad altri soggetti qualificati. Il protocollo prevede la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione in materia di educazione stradale da realizzare nelle scuole con interventi rivolti sia agli studenti che alle famiglie e campagne di prevenzione attraverso l'utilizzo dei mass media attraverso il diretto coinvolgimento dell'ASP con personale medico e sanitario specialistico al fine di diffondere quanto più possibile una capillare informazione sulle cause e sugli effetti dell'inosservanza delle norme di comportamento prescritta tutela della sicurezza della circolazione stradale. Anche i controlli stradali saranno potenziati per contrastare l'uso di cellulari durante la guida e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Il servizio era del direttore Catiuscia Carpentieri e non di Carmela Minardo che invece stamattina era a Camarina alla consegna dei lavori di riqualificazione del Parco archeologico e del Museo di Camarina avvenuta alla presenza di Sebastiano Tusa Assessore regionale ai beni culturali. Quasi 5 milioni di euro per il restyling del Parco archeologico e del Museo di Camarina stamani è avvenuta la consegna dei lavori alla presenza dell'assessore regionale ai beni culturali Sebastiano Tusa. L'intervento previsto è progettato un intervento di rinnovamento del museo e dell'area archeologica. Per quanto riguarda il museo essendo il museo è stato fatto negli anni Sessanta quindi con dei criteri e delle tecnologie che allora non esistevano quindi verrà adeguato con dei sistemi didascalici e didattici realizzati con le più rinnovate tecnologie e poi ovviamente ci voleva anche un rinnovamento da un punto di vista proprio anche strutturale per cui l'originario apparato ideato dal grande architetto museografo Franco Minissi verrà lasciato come è però verrà rinnovato nei materiali e nei sistemi e nei apparati tecnologici di comunicazione. Sarà realizzato anche un nuovo percorso inclusivo per disabili. I lavori già appaltati dureranno 219 giorni dal momento in cui prenderanno il via e sono stati possibili grazie ai fondi comunitari e ministeriali impegnati dall'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. Chiaramente questo è un progetto che parte da lontano io mi ricordo nel 2010 ero qua con il direttore Di Stefano e abbiamo seguito questo progetto che il preliminare è stato fatto da Infimitalia e lì abbiamo dato le prime indicazioni di quello che poi è stato sviluppato ed è diventato un progetto esecutivo di oggi ma l'abbiamo dato nel 2010 assieme al dottore Di Stefano. Sono delle occasioni straordinarie. Il polo regionale per i siti culturali che poi gestirà negli anni successivi ovviamente queste realtà archeologiche e monumentali si trova in una situazione veramente fortunata e credo che questa sinergia come mai si è sviluppata nel nostro territorio fra colleghi dei beni culturali dunque fra sopredendenza e polo regionale oggi si stia sprigionando nella direzione giusta. E alle 16.30 l'assessore regionale Sebastiano Tusa sarà a Modica in Cava d'Ispica dove alla presenza del sindaco Abate si procederà alla consegna dei lavori relativi al progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del parco archeologico regionale di Cava d'Ispica al restauro della necropoli di Baravitalla. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria e Mdg torna tra poco. Bentrovati studio 40.000 euro per ripristinare le sei torre faro poste nella banchina commerciale del porto di Pozzallo. L'assessorato regionale delle infrastrutture ha autorizzato per tali lavori di somma d'urgenza attraverso il decreto di finanziamento a darne notizie all'onorevole Orazio Ragusa il quale chiarisce che i lavori saranno effettuati nella zona adibita a carico e allo scarico di unità navali al fine di garantire il regolare funzionamento delle attività portuali anche in periodo notturno. Sappiamo quanto sia importante il porto di Pozzallo per la crescita economica del nostro territorio aggiunge l'onorevole Ragusa. A procedere con l'affidamento dei lavori entro i termini del regolamento il genio civile di Ragusa l'ingegnere Capo Pagano assicura che considerata l'urgenza già nel giro di pochi giorni si darà inizio a questi interventi. E rabbia e delusione tra i tifosi del Calcio Catania che speravano in un ripescaggio in Serie B. Adesso si attende la decisione del Tribunale federale anche se ormai sembra deciso un campionato a 19 squadre. C'è delusione tra i tifosi del Catania che con ansia attendevano la sentenza su un possibile ripescaggio di tre squadre in Serie B. Campionato che invece resta a 19 squadre. A stabilirlo è il Collegio di Garanzia dello Sporto presso il CONI che ha dichiarato inabissibili ricorsi presentati. Rabbia e sconforto dunque tra i tifosi che abbiamo intervistato questa mattina. È un'ennesima buffonata se si può dire perché il calcio italiano ancora una volta ha perso di credibilità e quindi è una cosa che serve ad allontanare la gente e non farlo andare più allo stadio. Io pensavo che andava in B che era tutto già calcolato invece non per distruggere la città di Catania e lo sport di Catania si sono vendate altre cose non so perché. Non potrà mai salire con i poteri che ci sono nella Lega, nella BGC, nel CONI perché quelli sono poteri forti e fanno quello che vogliono loro perché hanno fatto una cosa e hanno abusato di una cosa che non potevano fare e purtroppo il Catania continua a rimpiangere sempre le conseguenze d'altrui. Il calcio Catania tuttavia ci prova sicuramente fino all'ultimo e tenterà di sfruttare l'opportunità del Tribunale federale anche se proprio il Tribunale ha rinviato l'udienza fissata ieri alle 14 al 28 settembre. Il calcio Catania aveva fatto ricorso contro la decisione del commissario Fabricini di ridurre la B da 22 a 19 squadre. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Catania Salvo Poiese che parla di epilogo assurdo per questa vicenda. Si è arrivati a questo epilogo dice il primo cittadino in totale spregio delle regole del diritto per la mera volontà di chi vede nel calcio non la passione condivisa da milioni di persone ma una fonte di guadagno e di lucro. La risposta può essere una sola oltre a quella che daremo nelle aule dei tribunali sostenendo con i legali del Comune il ricorso del Catania Calcio sostenere in massa anche la squadra. Un pulmino per Anfas questo è il nome della campagna nonché obiettivo centrato da Anfas Onlus Modica che ieri ha inaugurato un nuovo pulmino che per dimensioni meglio si addice al numero in crescita degli associati fondamentale il supporto della cittadinanza e di alcune aziende che hanno sostenuto Anfas. Hashtag un pulmino per Anfas è il nome della campagna nonché l'obiettivo centrato da Anfas Onlus Modica dopo un anno di lavoro ieri l'inaugurazione di un nuovo pulmino presso la sede dell'associazione in via Circonvalazione Ortiziana 206 a 1 la cerimonia di inaugurazione del nuovo pulmino si è svolta alla presenza delle autorità ecclesiali e politiche della città fondamentale il grande spirito di solidarietà e il supporto di numerosi cittadini anche con l'impagabile impegno e contributo di aziende che rappresentano alcune delle migliori eccellenze del territorio che con entusiasmo hanno voluto sostenere Anfas in questa avventura dopo un anno della campagna Asta con Pumino per Ampa siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo e sicuramente è un obiettivo molto importante uno dei tanti obiettivi che noi ci portiamo avanti perché il numero dei ragazzi sono aumentati e sicuramente il numero dei mezzi non abbassava più e un altro obiettivo che porteremo avanti è la ristrutturazione dei locali dell'associazione per farli diventare centri diurno perché il numero dei ragazzi della richiesta di entrare in associazione sta aumentando Riuscita la prima edizione di Camminando verso Maria un pellegrinaggio organizzato dal gruppo Monte Rosso Trekking in collaborazione con la parrocchia Svoltosi in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata Regina e patrana principale della città montana il percorso è stato di ben tre chilometri con partenza e rientro dal santuario domani è la festa dell'esaltazione della croce alle 19 ci sarà la recita del rosario mentre la celebrazione caristica successiva sarà preseduta da padre Sebastiano Amato ed è tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti